Buongiorno a tutti, dunque giovedì primo aprile, occhio al pesce e ai pesci, soprattutto al pesce padulo, quello delle false notizie nell'epoca delle fake news, ormai è tutto un primo di aprile, non si capisce mai quando leggi una notizia se è vera, se è finta, qual è il perimetro della sua fondatezza, vera, falsa, verosimile, poi tutto passa, ci si indigna, ci si scandalizza per un giorno, due giorni, poi arriva un altro scandalo, scandalo che può essere provocato da qualsiasi fatto, bisogna stare molto attenti a immergersi nel flusso delle notizie, H24 è come diceva il grande filosofo, non ci si immerge mai due volte nello stesso fiume, no, Pantarei è tutto un divenire, che poi quando adesso uno cita Pantarei, la prima cosa che ti dice un ragazzo è, Gabbani? Occidentali Scarma? Tu dici sì, vabbè, più o meno. Allora, è un piacere oggi avere con noi un collega, se posso, ma non è solo un collega, quando io ho cominciato a scrivere le prime mie cosette sui giornali, parlo del 1984, sono un relitto del secolo scorso, questo mio collega già lavorava in Rai, è un autore anche di cose teatrali, anche di cose musicali, anche di cose cinematografiche, cinematografiche, paracinematografiche, conduttore radiofonico e anche presidente di una onlus, che tra l'altro ho scoperto, ha cambiato nome a dicembre, si chiama Fondazioni Cervelli Ribelli Onlus e anche uno scrittore ha scritto diversi testi, alcuni dei quali sono riferiti alla sua esperienza di padre del figlio autistico, Tommy, best seller, una notte ho sognato che parlavi, alla fine qualcosa ci inventeremo e poi io figlio di mio figlio, insomma ci sono mille e un motivo per parlare e avere il piacere di parlare con Gianluca Nicoletti, che tra l'altro è anche editorialista della Stampa di Torino. Buongiorno Gianluca. Ciao, buongiorno, ho esagerato una premessa, cioè hai ritirato fuori aspetti della mia vita professionale che avevo dimenticato anche io penso, canzoni, se una volta scrissi anche una canzone, facevo un disco. No, perché andandomi a documentare come bisognerebbe fare ogni tanto, non sempre, ma quando parli con qualcuno, perché sennò è tutto un pressapochismo che oggi dilaga, oggi per farti un esempio banale Gianluca, per dire la sciatteria, che è una cosa che mi manda al manicomio da parte dei giornalisti, oggi apro il Corriere della Sera e vedo una bellissima pagina dedicata agli 80 anni di Vivian Westwood, che è una stilista, ma non lo è più, è un attivista verde, è stata la stilista degli anni 70 che ha contribuito a lanciare il movimento dei punk a Londra, eccetera. Benissimo, lasciamo stare, uno può anche non conoscere la storia di questa signora, ma il Corriere della Sera mette in pagina la foto di lei con il suo compagno e nella didascalia della foto c'è scritto, eccola qui insieme al suo compagno più giovane di 11 anni, dico, ah, vabbè, non lo sapevo, mi metto a leggere il pezzo, arrivo nel pezzo e nel pezzo c'è scritto, e poi ha questa storia d'amore collaudata con un compagno più giovane di 25 anni. Ma come? Nella didascalia c'è scritto 11, nel pezzo c'è scritto 25, ma sono 25, sono 11 e comunque chi ha scritto il pezzo evidentemente non ha fatto la didascalia e chi ha fatto la didascalia evidentemente non ha letto il pezzo, è andato all'ingrosso. Ecco, è questa cosa di noi giornalisti che adesso mi fa venire in mal di testa, cioè peggio delle cose che si insabbiano, peggio delle notizie che non si danno è quando butti lì le cose e tanto si, vabbè, ma tanto chi ci fa caso? Sei d'accordo su questa sciatteria? Se mi permetti, trovo peggiore il sottolineare che ha un compagno più giovane, dov'è la notizia? Questo è il fatto. Era tanta l'euforia di sottolineare che avesse un toy boy, poi di 11 anni, 20 anni meno, così, che alla fine nell'euforia hanno sbagliato entrambi probabilmente, entrambi a sottolinearlo, compagno più giovane, che vuol dire? Perché, scusa, quando parliamo di un uomo sottolineiamo che è la compagna più giovane? Non vedo la notizia, non vedo la notizia in questo, che sia più giovane. È perché, e qui arriviamo, man mano ci avviciniamo a una parte del cuore della nostra conversazione, se ti fa piacere, è esattamente questo, cioè ci sono notizie o modalità di comunicazione di notizie che riflettono dei meccanismi, Pavlov ci andrebbe a nozze, nel senso che una donna con un compagno più giovane è una notizia, un uomo con una compagna più giovane e in qualche caso anche molto più giovane, sonoramente più giovane è un fatto acclarato, o meglio, non è un fatto. E questo lo dice molto sui meccanismi nostri, come andiamo in automatico, mettiamo il pilota automatico per cui certe notizie fanno più sensazione di altre. Se vuoi, quel filmato, visto che si sta parlando molto, ne abbiamo parlato ieri con Mauro Coruzzi, di questo disegno di legge, la legge Zan, l'omofobia, non l'omofobia, a quel video terribile di quel signore che in una stazione del ferroviario a Roma, Valle Aurelia, attraversa i binari per saltare sul binario e prendere a cazzotti due ragazzi che si stavano scambiando delle affettuosità e delle effusioni. Siamo ancora a parlare di queste cose, ed è il nostro approccio, approccio nostro, di noi, corporazione delle iene dattilografe, che spesso è sbagliato, e so che tu te ne sei occupato anche in radio con le tue rubriche, su una certa deriva e della classe giornalistica, e del linguaggio della classe giornalistica, e del format mentale della classe giornalistica, o sbaglio? Oggi noi ci poniamo uno scrupolo che secondo me dobbiamo smettere di porci, la paura che il politicamente corretto sia una deriva su cui sborride, rironizzare, fa parte di un mondo radical chic assolutamente infame e insincero, che è vero, sicuramente è vero, però il cosiddetto politicamente corretto, se facciamo un passo indietro, ci ricordiamo, e cominciamo a fare questo mestiere l'anno prima che hai iniziato te, quindi dall'83, quindi pensa quanto tempo è che lavoriamo in questo tipo di attività di raccontare il mondo, beh avevamo un linguaggio diverso, eravamo diversi, avevamo una sensibilità diversa, è politicamente corretto, ci ha civilizzati, ci ha civilizzati, ci ha permesso oggi di trovare ridicolo, fuori del tempo, assolutamente anacronistico, rozzo, volgare, sottolineare che una donna abbia un uomo molto più giovane di lei, questo è il vantaggio politicamente corretto, lo svantaggio invece oggi di considerare che sia stato soltanto un momento di follia e occorre una restaurazione dei valori, di un certo mondo arcaico, del mondo che fu, è la giustificazione che quell'uomo brutale, di scarsa cultura, di pochissima sensibilità, probabilmente con profondi problemi di identità sessuale, si sa sentito in diritto, in dovere di fare il giustiziere, vede due ragazze che si baciano, li mena, li mena perché ha sentito che nell'aria qualcuno dice che esiste un mondo politicamente corretto, radical chic, infame, traditore, che vive nel terrazzo, è tutto vero perché esiste, sappiamo che c'è, via dicendo, che giustifica il fatto che oggi bisogna tornare a un mondo in cui c'è un papà, una mamma, in cui l'uomo e la donna possono amarsi e gli altri fanno parte di un mondo diabolico, perverso da indicare e possibilmente da reprimere. Per questo io sono convinto una legge sia fondamentale, sia essenziale per ribadire il fatto, cioè essere totale libertà delle persone di esprimersi sul piano sentimentale, affettivo, amoroso, sensuale e se no daremo via via giustificazione a tutte le persone che malinterpretando quello che è stato uno scatto vero di civilizzazione, pensano che sia stato soltanto un capriccio di pochi radical chic che hanno deciso di chiamare le cose con dei nomi edulcorati. No, non è così, ci siamo veramente civilizzati, se no io e Antonello Piroso oggi non troveremmo nulla di strano nel fatto che si sorride, ci si dà di gomito, vedi, la vecchia si è presa al toy boy, ecco, è una cosa detestabile. Allora, un paio di riflessioni sulle cose che dici. La terrazza dei radical chic esiste, nel senso che persino il grande Ettore Scola ci fece un film che si chiamava La terrazza, che era la summa teologica in cui veniva rappresentato quel certo mondo di sinistra, abituato appunto a ritrovarsi in terrazza e non tutti la terrazza ce l'hanno, nel senso che poi la metafora è anche questa, non hai la terrazza, ma non manco il balcone in qualche caso. Se poi vivo a perostrado addirittura, come nel mio quartiere capita, ci sono palazzi in cui la gente vive sotto il livello stradale, con una certa ripulsa per coloro che vivono nel film, dicono, la terrazza, quell'approccio per cui il macellaio sotto casa è diverso da noi. Quindi c'è quella dimensione. E ce n'è una seconda, lo faccio per provocarti Gianluca, tu conosci meglio di me che è stato scritto un saggio da un professore americano che si intitolava La cultura del piagnisteo, in cui lui metteva il dito sulla piaga del, d'accordo, la maggioranza, tu cur, delle persone, deve rispettare le minoranze, ma al tempo stesso le minoranze non possono strepitare per cercare paradossalmente di indurre poi la maggioranza là dove non si parli di questioni esistenziali cruciali. Ti faccio un esempio banale. Io rispetto moltissimo i vegani. Sono felicissimo se uno dice io ho abbracciato la dottrina vegana e trovo che mangiare carne di origine animale sia un delitto, è un'opinione che rispetto. Ti vuoi nutrire così? Mi sta benissimo. Io purtroppo sono onnivoro e carnivoro. Non mi sento di imporre a te il mio modus, la mia alimentazione. Ti pregherei, amico vegano, però di non inseguirmi per ogni dove per dirmi che io sto contribuendo alla fine degli animali sulla terra e che quindi quasi merito di morire. Perché non vorrei che poi nella ricerca del giusto equilibrio tra le regioni della maggioranza e della minoranza che ha diritto di essere tutelata si vada un po' oltre. Cioè che poi alla fine io, che sono maggioranza, ma potrei essere un'altra minoranza diversa dai vegani. Potrei essere uno che non mangia carne rossa ma mangia solo la carne bianca. O non mangia carne bovina ma mangia solo il pesce, perché pure il pesce è carne. Sei d'accordo che bisognerebbe forse ritrovare un equilibrio nel disegnare dei perimetri che sono, come dici tu, però assolutamente necessari. Ma certo, io penso che poi avverrà automaticamente, come dopo una mareggiata poi alla fine l'orizzonte ritorna stabile. Ma il vegano non rischia la vita, non rischia le botte, non rischia la discriminazione. Il vegano... No, lo rischio io che sono carnivoro, oltre a un impatto probabilmente. Figurati, lo dici a me, lo dici. Sono umbro io. Il momento più bello dell'anno è quando si ammazzava il maiale. Ti descrivo come si ammazza il maiale. Figurati, era una poesia per me. La resurrezione del maiale attraverso la salsiccia. Ti posso parlare ore del tripudio della carne in tutte le sue accezioni. Ma io nemmeno mi accanisco, perché poi diventa l'accanimento sul vegano. Lasciali vivere, l'importante ti lasciano vivere. Ecco che tu non ti senti in colpa se ordini la bistecca o se ti fai la grigliata con le salsicce. Non ti danno dell'assassino. Ecco, l'importante è questo. Ma sai, molte volte è anche un bisogno di ritrovarsi in un filone ideologico. Al di là di quello che si può dire o non dire, l'Occidente è completamente fallito, ha esaurito la sua vena spirituale forte. Dobbiamo fare un discorso alto. La religione è diventata una mera rappresentazione di principi etici e morali. Infatti, come vedi, i pillon, c'è sempre la salvaguardia che questo perché Dio lo voglia. Ma Dio non vuole questo assolutamente, non l'ha mai voluto. E quindi ci creiamo dei canali di sottoreligioni. Quello che abbiamo buttato fuori dalla porta riesce dalla finestra. Il veganesimo ha l'afflato dei primi predicatori, dei martiri. Ecco, loro cercano il martire o probabilmente cercano di passare per vittime. Quando il vegano tranquillamente può mangiarsi tutte le verdurine che vuole, nessuno viene a prendere sotto casa, nessuno lo mette in gattabuia, nessuno lo picchia per strada se mangia la verdura. In questo caso hai ragione, è un piagnisteo. Faccio le sue pubblicazioni, faccio le sue dimostrazioni. L'importante è che non mi vengo davanti al ristorante ricoperti di vernice rossa a dire che sono un assassino perché mi mangio la bistecchina o la salsiccina, che poi nemmeno tanto, non è che sono appassionato di carne. Voglio la libertà alimentare. Il tabù alimentare è una delle forme di inciviltà più profonde o perlomeno di arretratezza, come tutti i tabù, come tutte le regole. Le regole dovrebbero essere soltanto quelle di non nuocere i tuoi simili, di fare in modo che tutti possano avere libertà di esprimersi. Ci sono religioni che ancora impongono delle regole molto cruente, le rispetto, però mi domando come persone con una capacità di cogliere la contemporaneità possano pensare che Dio voglia degli atti cruenti sui propri figli, ad esempio. Mi viene in mente questo. Lo rispetto, ma trovo perplessità. Io quando vedo le immagini che arrivano da paesi arabi o musulmani, distingo sempre perché c'è anche tanta confusione, tutti gli arabi sono musulmani, l'Arabia, la zona arabica è un'espressione geografica, l'islamismo è un'espressione religiosa, spirituale, ma quando vedo arrivare da qualche paese di quell'area immagini di omosessuali impiccati, perché di questo stiamo parlando oggi, non ieri, oggi, rivaluto anche, mi dispiace dirlo, un tema che poi a un certo punto aveva creato un dibattito sulla superiorità di un mondo rispetto a un altro. Io non lo dico superiore in base a un pregiudizio, a un preconcetto culturale, religioso, però ritengo che un paese in cui le donne non possono prendere la patente o un paese in cui si impiccano i gay, non mi posso dire che non mi pare molto evoluto o qualcuno si offende, nel senso che per i miei parametri, per i parametri occidentali, per i parametri della cultura in cui siamo cresciuti, le donne possono guidare la macchina, mi viene anche da ridere a dirlo, e i gay non si impiccano, punto. Io poi sono contrario alla pena di morte to cure, ma a maggior ragione quando la vedo motivata per comportamenti sessualmente deprecabili che vengono sanzionati con la morte, di questo stiamo parlando. Sono più radicali di te in questo, io ti dico, mi meraviglio come facciamo ancora avere i rapporti diplomatici, economici affabili con paesi che ancora praticano legalmente l'infibulazione femminile, è un tema bruttissimo, io ho avuto discussioni con un professoresse universitario qui in Italia, mi dicono ma è un problema nostro, in questo relativismo culturale non può prevalere, non può pensare che esista una regola per cui alle donne venga tagliato, cucito, mutilato l'organo sessuale, perché? Perché questo fa parte dell'uso della religione, è una tortura, è una tortura inammissibile, non può passare una cultura del genere, non possiamo far finta col sorriso sulle labbra quando vediamo questi signori che dietro ci sia una cosa così orribile e che siano costrette da una sorta di senso comune accettato, imposto ad essere mutilate, è una cosa gravissima, una cosa che ancora avviene, sai quante bambine vengono nel nostro paese rimandate al paese d'origine perché la nonna le taglie le cuce e le rimandi a casa? C'è una sorta di indifferenza proprio da quel radical scicchismo terrazziero, perché sai il nome della loro cultura fa parte della loro cultura, ma la tortura non può far parte di una cultura, è impossibile, non siamo esseri umani, civilizzati, se ammettiamo che possa esistere una cultura che infligga una tortura e una mutilazione per tutta la vita a una donna. In questa carrellata che stiamo facendo c'è l'altro tema del linguaggio, parto da un esempio personale, io quando avevo sette anni e quindi ero in seconda elementare a Como, avevo una cotta per una deliziosa ragazzina che si chiamava Marinella, mi ricordo il nome, mi ricordo anche il cognome che non farò per rispetto della privacy, diciamo così, perché poi la signora avrà avuto una vita augurandole che sia in vita e che possa campare 120 anni, ma a sette anni quando seppe che io dicevo in giro che noi eravamo fidanzati, perché mi facevo bello con i compagni di classe, mi prese davanti a tutti e mi disse, senti mongolino, io non so che tu sia, ma mi sembri uno spastichino, tutto inino, 1967, ok, quanti anni sono passati? Ora penso che quella signora non dica ai suoi figli di esprimersi così, che non si esprime neanche lei, ma non mi esprimo neanche io, anche se all'epoca, e sto relativizzando, cioè seconda metà degli anni 60, il dire mongolino spastichino era… L'abbiamo detto tutti, l'ho detto anch'io, Fio, lo sa quante volte l'avrò detto, il te con gli spastichini, cioè si facevano delle battute orrende su qualsiasi tipo di disabilità. Uno evolve, uno cresce, sono passati 50 anni e la sensibilità comune è diversa, l'attenzione necessaria, ma non perché è imposta da una legge, è imposta dal buon senso, fa sì che quando si trattano determinati argomenti non si evitano a modo insulto delle categorie che fanno riferimento a persone che hanno un disagio che può essere fisico o psichico. L'essere civilizzati è questo, noi civilizziamo perché ci accorgiamo di realtà che altrimenti non possiamo vedere se non abbiamo diretta testimonianza o esperienza. Ti accorgi che esiste la disabilità quando sei toccato nella tua carne, nella sfera dei tu affetti da una disabilità e ti accorgi che esiste, ma ce ne saranno un'infinità caro mio che noi nemmeno immaginiamo, nemmeno pensiamo. Man mano che le tocchi ti fai testimone di questo passo avanti di civilizzazione, evito con il linguaggio di riferirmi in maniera dispregiativa, irrisoria rispetto a persone che hanno una sofferenza e te ne accorgi via via nel corso della vita e fai tesoro di questa esperienza e cerchi di trasferirla a chi ancora deve fare questo cammino, questo passaggio di civilizzazione. Perché hai cambiato nome alla tua ONLUS, Fondazione Cervelli Ribelli ONLUS, dal dicembre 2020? Perché la normativa che regola le associazioni del terzo settore sta cambiando, la ONLUS doveva diventare una fondazione, quindi da quando da ONLUS sono passato a fondazione, gli ho dato il nome di un qualcosa che già esisteva, che era Cervelli Ribelli, che è una specie di factory, mi ero messo insieme a un'amica mia che si occupa di comunicazione, c'è un'azienda che si chiama Culta che fa comunicazione e facevamo progetti proprio per divulgare questo che stiamo dicendo noi, che non saprei definire, che è un corretto pensare, quello che abbiamo chiamato una sensibilità verso la responsabilità sociale. Ci chiamavamo Cervelli Ribelli, abbiamo fatto anche un decalgo dei Cervelli Ribelli, cosa significa essere cervello ribelle, cioè il cervello ribelle è quello che non segue un pensiero omologato, se ne prende tutte le responsabilità, paga lo scotto di pensare in maniera diversa, però è consapevole che non ci sarebbe evoluzione umana se non ci fossero persone che avessero cervelli diversi. Ogni scatto di civilizzazione, ma anche di evoluzione, di progresso, viene fatto perché un giorno si alza uno che pensa diverso dagli altri. Se pensassimo tutti nella stessa maniera, il mondo sarebbe ancora dentro le caverne e forse nemmeno la luce delle fiaccole, perché nessuno avrebbe pensato a prendere il fuoco da un fulmine o strofinare delle pietre per fare le scintille. La dittatura del pensiero unico. Senti, tu sei figlio di tuo figlio Tommy, come da titolo del tuo libro? Sì, questa è una mia vicenda personale. Negli ultimi anni della mia vita, negli ultimi sette, otto anni, ho preso a cuore in maniera particolare il problema della neurodiversità avendo un figlio autistico. Il figlio autistico è un figlio come gli altri finché è piccolo, un bambino taciturno, strano, che però gestisci. Quando diventa adulto trovi davanti un uomo, un uomo con il cervello di un bambino, ma che non è proprio un bambino per tante cose, delle aperture, delle sensibilità, dei modi di pensare, che diventano anche per me oggetto di interesse. E quindi la mia attenzione professionale è andata proprio al mondo dei cervelli diversi. Studiando il mio figlio, vedendo il suo crescere, il suo evolvio, il suo diventare uomo, il suo abiso con le sue necessità, le sue intuizioni, ho visto che c'era un mondo che non conoscevo. È una realtà immensa. In Italia sono 600 mila famiglie che hanno questo problema. E vivono una situazione disperata perché man mano che il figlio cresce, il figlio diventa un fantasma perché perde ogni attenzione pubblica, istituzionale, di assistenza e il mondo non è pronto a elaborare il fatto che persone con cervelli diversi possano far parte della società. Possono far parte della società persone che non camminano, che non vedono, che non sentono, ma chi ha un cervello diverso rappresenta un pericolo, un rischio, una messa in discussione di tutte le certezze. Quindi il cervello diverso, per il suo bene naturalmente, per il suo retto vivere, prima o poi è bene che venga rinchiuso da qualche parte, tenuto da parte. Il valore sociale di un ragazzo con mio figlio inizia quando se lo prende in carico un'istituzione e lo mette in una stanza, prende quei due o trecento euro al mese che lo Stato gli dà e lo tiene in vita il più possibile naturalmente perché diventa il suo core business. E su questo mi sono ribellato. E ho cominciato a muovere per capire se ci potessero essere nella società delle pieghe in cui chiunque persa diversamente, ma è uno spettro vastissimo, autistico, mio figlio che non parla, è un autistico abbastanza pesante. Autistico poi sono io perché alla fine, a forza di appassionarmi, avevo un rapporto così intenso e di grande comprensione e di lettura del mondo attraverso i suoi occhi con mio figlio, mi sono fatto diagnosticare un paio di anni fa, tre anni fa anzi, quando ho scritto questo libro mi hanno detto guardi che lei ha asperger al cento per cento, ma non me ne ero mai accorto, mi hanno fatto tutti i test clinici necessari, te lo misurano proprio il cervello, non c'è dubbio. E a quel punto ho rivisto tutta la mia vita a luce del fatto che mi hanno sempre detto ma tu sei matto, sei strano, ma con te non ci si può parlare e soprattutto analizzavo la mia diffidenza verso l'umanità e la mia selettività, soltanto con poche persone, guarda caso erano sempre le persone strane, i reietti, quelli che venivano considerati ai margini, ma anche professionalmente, ho sempre preso delle grandi cantonate, sono sempre stato dalla parte sbagliata, dalla parte di quelli che poi alla fine venivano sempre silurati, di quelli che venivano considerati degli eccentrici e questo ha un nome, questo ha un nome, è una neurodiversità, il tuo cervello è selettivo, tu vedi il mondo in maniera diversa, senti il mondo in maniera diversa, è bello perché cogli degli aspetti come un rabdomante che gli altri non colgono, è brutto perché non conosci, proprio non ci riesci tutte quelle ritualità, quegli ammortizzatori e sociali che vengono messi in atto per avere successo, per essere accettati, io non riesco a dire a una persona qualcosa che non sento, non riesco a fare un complimento se non mi viene spontaneo e invece è molto facile che io dica quello che pensi prendendomene poi tutti i rischi e tutte le catastrofi che possono seguitare e questa è stata la mia apertura e quindi io cervello ribelle, cervello ribelle mio figlio, ho pensato di chiamare la mia associazione cervelli ribelle. Pensa se tutti noi parlassimo senza simulazioni, cioè esternando sentimenti e pensieri che non condividiamo ma li simuliamo, è un mondo senza dissimulazioni in cui la gente non nasconde il suo vero sentire, il suo vero compassione poi viene nel senso etimologico, il sentire insieme, questo dovrebbe essere, e se ce lo ricordassimo nei confronti di chi è meno fortunato perché la sorte di io, quello che volete voi, ha riservato una corsia diversa, diversa, non vuol dire peggiore, anzi per molte cose migliori perché io dico sempre che poi, e non lo voglio fare con la retorica della compassione, lo dico perché è manifesto che c'è un grado certe volte di sensibilità molto più accentuato dei cosiddetti normali, i quali invece essendo tali pensano di avere la verità in tasca e spesso inciampano nei confronti di soggetti come Tommy, il figlio di Gianluca, ma ci ha appena ricordato 600.000 famiglie, tra l'altro c'è sempre una cosa e lo chiedo a Gianluca, Gianluca tu quanti anni hai? Io ho 66 anni. Ecco, diciamo che camperai fino a 96, 97, 100 anni. Anche più, che ne sai, non porre limite. Ma certo, perché mettere limite alla divina provvedenza? Hai ragione. Io spero di campare finché ho voglia di campare, quando mi passerà la voglia di campare spero di non campare più. Ecco, perfetto. Ti poni il problema del dopo per tuo figlio, del dopo di te, del figlio di cui sei figlio peraltro? Guarda, è il problema più atroce, pensa che domani è anche la giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo, una cosa terribile perché sarà la giornata all'ipocrisia, io scapperò via domani, tutti si vestiranno di blu, tutti diranno che bello, ci sono questi ragazzi autistici, poi il giorno dopo trovi difficoltà a portare tuo figlio in un posto e te lo guardano come se fosse qualcosa da allontanare. E sì, mi pongo certo il problema, è il momento più grosso e atroce. Nella regola e nella norma un genitore invecchia, il figlio si evolve, il figlio diventa a questo punto il custode del genitore perché si deteriora, si rincoglionisce. invece un figlio non autonomo dal punto di vista intellettivo ti pone un altro problema, ti fa un grande regalo, è come il morso del vampiro, il vampiro ti morde, ti rende vampiro e quindi ti succhia il sangue, però ti rende immortale. Questi ragazzi ci danno l'illusione dell'immortalità, noi non possiamo invecchiare, io non posso rallentare le mie funzioni vitali perché ho un gigante di cui devo occuparmi, lui sarà sempre il braccio, sarò sempre la mente. Il mio primo libro finisce proprio con questa immagine, mi immagino io che comunque fino all'ultimo, come Enea quando si portava il padre Anchise sulle spalle, seguo mio figlio, mi faccio portare sulle spalle da lui e gli dico di stare attento a attraversare i semafori, passare solo con il verde e forse probabilmente la soluzione del nostro dopo di noi sarà il momento che io non riuscirò più a riconoscere quel semaforo. Questa naturalmente è la peggiore e la più pessimistica delle ipotesi, la più ottimistica è quella che sto cercando di costruire io, costruendo un posto di alta inclusione, di tecnologia, di persone di pespicacia, non amo la parola buon cuore, tu hai detto la sensibilità verso quelli che soffrono, ti dico da autistico, quindi da persona che centellina il proprio sentimento, è un vantaggio, sentire e avere empatia per gli altri è un grosso vantaggio per noi, noi acquisiamo degli strumenti di forza e di gestione comunque del mondo impensabili, non dobbiamo farlo perché è bello, perché è buoni, perché è caritatevole, no, perché è il nostro vantaggio, diventiamo supereroi se riusciamo a avere la sensibilità di tutta la sofferenza che ci circonda, senza l'atteggiamento, poverini, la sofferenza, speriamo in una provvidenza, no, io se ti aiuto a te a stare meglio, se vedo un sorriso in te, il tuo sorriso diventa la mia forza, guarda che io non sono un buonista, sono una persona cinica, spietata, non ho nessuna compassione per il genere umano in generale, ma riesco a muovermi in maniera attiva proprio per il mio stare meglio verso le persone che provano delle sofferenze, ma magari sono cieco verso migliaia di cose, la mia sensibilità deve essere acuita e userò anch'io molte volte dei linguaggi rozzi e arcaici e sono stato spietato, cattivo e crudele verso un'infinità di persone e continuerò a esserlo, perché sono un essere umano, non sono un santo. Gianluca, abbiamo esaurito il tempo, grazie per questo intervento e per questa testimonianza, fondazione Cervelli Ribelli Onlus, i libri se avete la possibilità, una notte ho sognato che parlavi, alla fine qualcosa ci inventeremo, io figlio di mio figlio, avremo occasione di riparlare con Gianluca Nicoletti sicuramente, intanto auguriamo a lui, a suo figlio, ai suoi cari, a tutti voi che ci avete seguito e a tutta la squadra delle fonti, la più bella delle Pasque possibili e anche di Pasquetta, noi domani non per non festeggiare la giornata sull'autismo, ma i mercati sono chiusi, non ci saremo, ci rivediamo martedì, dopo il lunedì di Pasqua, con tutt'altro argomento, Guido Crosetto e la situazione politica. Di cuore a Gianluca, alla sua famiglia, a tutti voi, buona Pasqua. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.